Mare, profumo di mare, ah no scusami, ho sbagliato, siamo in città, Federico Doc, smog, profumo di smog, pronto per questa nuova puntata di Risate di Strada. Io sono pronto e voi? Greta, senti, volevo chiederti, qual è il colmo per un albero innamorato? Essere piantato. Brum, 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 iniziamo a scaldare i motori. Luca, senti questa, senti questa che è meravigliosa. Cosa fa un gelato quando ha paura? Si squaglia! Allora, come si chiama quell'animale preistorico che brontolava sempre? Brontolosa. Cosa mangia un polpo cannibale? Beh, mangia una polpetta. Ciao amici del TG Events. Visto, che bacio, che classe. Ci vediamo tra una settimana, tu sarei con noi? Certo, sì.